Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Un'altra rovinosa caduta nei boschi nell'arco di poche ore in provincia di Arezzo. Dopo l'incidente avvenuto ieri vicino a Palazzo del Pero, questa mattina è rimasto ferito un uomo di 58 anni caduto in un dirupo mentre stava cercando funghi. È successo a Caprese e Michelangelo poco dopo le 7 di questa mattina. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato quell'elisoccorso Pegaso in codice giallo all'ospedale Fiorentino di Carecci. E adesso voltiamo pagina per tornare a parlare della FIMER. La FIMER è ancora attesa per la decisione del giudice del Tribunale di Arezzo dopo che ieri la proprietà ha chiesto ulteriori tre settimane di tempo per verificare l'affidabilità di due fondi. Lo stabilimento di Terra Nuova Bracciolini continua ad essere occupato e proprio da lì è stata lanciata la raccolta firme per la legge d'iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori nelle aziende voluta dalla CISL a livello nazionale. Parte dalla fabbrica occupata dai lavoratori, dalla FIMER di Terra Nuova Bracciolini, la raccolta firme promossa dalla CISL a livello nazionale per una legge d'iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori nelle aziende. Quella di FIMER ormai, oltre che essere una vertenza nazionale, è diventata anche un simbolo della difesa del lavoro e dei diritti. Ma il luogo potrebbe essere più significativo di questo, aveva detto Silvia Russo, segretaria provinciale della CISL, nell'annunciare l'iniziativa fuori dai cancelli della fabbrica valdarnese. L'obiettivo è quello, innanzitutto, di iniziare nel nostro territorio provinciale la raccolta di firme per la legge di partecipazione popolare, proprio di iniziativa popolare sulla partecipazione che la nostra sigla sindacale di livello confederale fin dal nazionale sta cercando di fare in tutto il territorio nazionale, ovvero prendere le firme perché si attui l'articolo 46 della Costituzione sulla partecipazione dei lavoratori alla vita dell'azienda in maniera complessiva. E quale posto migliore di questo? La FIMER che ci sono dei problemi gravissimi sui quali i lavoratori non sono stati coinvolti fin dall'inizio e sicuramente se ci fosse stato questo tipo di legge, ci fossero stati degli accordi con la cui previsione fossero stati coinvolti i lavoratori e le sigle sindacali probabilmente avremmo evitato di arrivare a questa situazione. Quindi raccogliamo le leggi, raccogliamo le firme, oggi per la prima volta cominciamo da questo luogo che diventa un simbolo per la lotta che i lavoratori stanno facendo per riconquistare il diritto a lavorare, cosa che questa azienda, la proprietà di questa azienda sembra voler negare ai propri lavoratori. Torniamo in città nel cuore di Arezzo per parlare del crollo della facciata della pieve di Santa Maria in Corso Italia. In queste ore sono al lavoro operai sulle impalcature. La caduta di un pezzo di una colonna della facciata della pieve di Arezzo risale a domenica scorsa. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma in queste ore è stato approntato il cantiere per mettere in sicurezza l'area anche in vista della giostra del Saracino. È dalla terrazza che l'araldo Francesco Sebastiano Chiericoni si affaccerà per la lettura del bando. Lì, durante il corteo, non saranno ammessi quartieristi anche se l'ok della soprintendenza per la lettura del bando è arrivato, ma vincolato alla presenza dell'impalcatura accanto. I punti critici della facciata sono molti, così è stato deciso di metterla in sicurezza con strutture provvisorie. In occasione poi delle cene propiziatorie in programma per venerdì 16 giugno e anche dello stesso Saracino di sabato 17, sarà sospesa per questo weekend la maxi-area pedonale prevista appunto nel centro città per alcune vie e piazze. La decisione è stata presa per garantire la viabilità in prossimità delle sedi dei quartieri. Economia cresce l'export della provincia di Arezzo nel primo trimestre 2023 secondo i dati presentati dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Seppur con un segno positivo, Arezzo registra una delle peggiori performance rispetto alle esportazioni nel primo trimestre del 2023. 2,6 miliardi di euro con una crescita rispetto al 2022 di appena lo 0,4%. Arezzo è uno dei dati peggiori in Toscana, le altre province sono quasi tutte a doppia cifra, fanno peggio di noi solo Grosseto e Lucca che hanno un segno meno. L'export a retino anche nel periodo gennaio-marzo 2023 fa segnare un risultato positivo, commenta Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio, con una crescita però molto inferiore rispetto al risultato medio regionale che si attesta al 17%. Un risultato comunque influenzato dal risultato positivo di alcune province come Massa Carrara dove il settore dei macchinari ha registrato ottime performance e Livorno addirittura con oltre il 190% in più che ha quasi triplicato il valore del suo export grazie ai prodotti petroliferi. A condizionare il dato a retino è il prezzo dell'oro. Nel primo quarto del 2023, continua il presidente, le esportazioni si sono attestate a poco più di un miliardo di euro, inflessione del 14,7% rispetto al 2022. Il prezzo dell'oro, con una crescita del 5,2%, ha contribuito. Il quadro economico complessivo presenta comunque molti elementi di incertezza. Le previsioni di aumento del PIL nazionale vedono alla base soprattutto i servizi, mentre il comparto manifatturiero e le costruzioni sono in fase di rallentamento. I consumi interni restano ancora fortemente penalizzati dall'inflazione. Ancora economia è partito, infatti, da Arezzo il tour della regione toscana per presentare le misure del Fondo Europeo di sviluppo regionale destinate alle imprese. Vediamo il servizio. Abbiamo presentato ad Arezzo, e lo faremo in tutte le province, il complesso della programmazione regionale di incentivo alle imprese per sostenere gli impegni delle imprese del sistema produttivo ad investimenti in innovazione, tecnologica, nell'internazionalizzazione e nell'accesso al credito. È partito da Arezzo il tour in tutte le province della Toscana per presentare le misure del Fondo Europeo di sviluppo regionale relativa all'imprenditoria. Sono 517 milioni che svilupperanno oltre 2 miliardi e 700 milioni di investimenti produttivi, una scossa per accelerare i processi di transizione ecologica e digitale per adeguare, rendere più competitive e consolidare le filiere più importanti della nostra regione. L'obiettivo è quello di coinvolgere area per area quel tessuto imprenditoriale e che nelle opportunità del Fondo Comunitario per il settennato 2021-2027 può trovare opportunità di crescita o di rilancio. Si parlerà tanto di sostenibilità, si parlerà di 4.0, dunque di un'impresa sempre più altamente tecnologica, anche di internazionalizzazione. Non è un caso che rappresente anche la Camera di Commercio qui di Arezzo e da questo punto di vista cerchiamo in qualche modo di dare valore aggiunto alla nostra impresa aretina. Il ruolo della provincia di Arezzo è quello di coordinamento e dunque da questo punto di vista ancora fa vedere che le istituzioni collaborano per un interesse comune che è quello del raggiungimento di traguardi importanti legati ai finanziamenti europei. È in corso a Bruxelles il bus a Bruxelles Urban Summit per affrontare le sfide significative che le città si trovano ad affrontare oggi, tra cui il cambiamento climatico, la migrazione, la crescita urbana e la disuguaglianza. Il contributo di Arezzo è stato portato dalla sindaco Alessandro Ghinelli che ha preso parte alla tavola rotonda dedicata alla diplomazia della città in tempo di crisi, nel corso della quale ha sottolineato come le città possano portare un contributo più concreto basato sulla reale valutazione dei bisogni dei cittadini alle istituzioni nazionali ed europei. In programma poi anche la firma dell'appello all'azione per una cultura a basse emissioni di carbonio e più inclusiva che invita i sindaci di tutta Europa ad impegnarsi nello sviluppo di politiche ed eventi culturali locali che diano priorità alla sostenibilità e all'inclusività. Da Bruxelles ci spostiamo in Valdarno e infatti Valentina Vadi, sindaca di San Giovanni, a capo della conferenza dei sindaci del Valdarno. Sentiamo le sue prime parole. È Valentina Vadi, sindaca di San Giovanni, il nuovo presidente della conferenza dei sindaci del Valdarno. Succede a Sergio Chienni, primo cittadino di Terra Nuova a Bracciolini che era in carica dal 2017. Innanzitutto mi preme ringraziare il presidente della conferenza dei sindaci uscente, Sergio Chienni, che ha tenuto la conferenza proprio su richiesta di noi sindaci del Valdarno anche oltre il suo mandato nel periodo difficile della pandemia e a questo naturalmente aggiungo anche il ringraziamento per i sindaci che hanno avuto fiducia in me e mi hanno ritenuta all'altezza di svolgere un compito così delicato. Sicuramente una grande attenzione per quello che è l'ambito di tutti i servizi socio-sanitari, quindi che riguarda la sanità territoriale, e poi soprattutto un'attenzione particolare e mirata nei confronti del nostro presidio ospedaliero che in questi ultimi tempi sta mostrando segni di grosso affaticamento. Tra i primi impegni quello di chiedere un incontro all'azienda sanitaria. Sicuramente sì, prima un passaggio diretto con quelle che sono le persone che lavorano quotidianamente dentro l'ospedale per prendere consapevolezza e coscienza chiara di quella che è la situazione attuale. E poi naturalmente sì, perché la ASL è il referente più importante per quello che riguarda i servizi sanitari e ospedali, per cui per forza è assolutamente sì un confronto diretto con l'ASL. Ancora sanità, al centro chirurgico toscano arriva il fascicolo sanitario elettronico. Si tratta del primo ospedale privato accreditato dove il fascicolo digitale diventa realtà. Se va al cinema il biglietto ci viene fornito digitalmente, in banca non se ne parli, non esiste più la carta. Negli ospedali questo processo è arrivato, penso per ultimo, comunque tra gli ultimi settori. Noi siamo contenti, diciamo pure orgogliosi, di essere stati tra i primissi. Siamo in questo momento l'unico ospedale pubblico privato che sia della Toscana ad avere la nostra cartella clinica totalmente elettronica, totalmente digitale. È il centro chirurgico toscano il primo ospedale privato accreditato della Toscana ad aver scelto la via della digitalizzazione che ha abolito di fatto il cartaceo nella struttura retina. La carta da noi francamente non c'è più, anzi, devo dire, forse siamo un po' esagerati, che chi utilizza la carta viene moderatamente e amichevolmente punito. Qui il fascicolo sanitario elettronico è già diventato realtà. Ci permette di aumentare i servizi che diamo ai nostri cittadini, anche fuori dal loro episodio di ricovero, perché non solo i dati loro vengono registrati, utilizzati per migliorare la loro qualità di cure, che diceva la loro esperienza di cura, ma potranno essere fruibili da loro anche una volta che decideranno di andare in un altro ambiente, in un altro posto. Il centro chirurgico toscano ha ospitato anche la giornata scientifica dal titolo la sfida della sanità digitale e il fascicolo sanitario elettronico 2.0, privato accreditato in collaborazione con il pubblico, alla presenza di alcuni uomini di caratura nazionale. Il futuro della sanità digitale in Toscana ovviamente è quello di mantenere i servizi digitali che già abbiamo sviluppato, soprattutto durante la pandemia. Quindi i cittadini possono furire del fascicolo sanitario elettronico, del sistema di prenotazione coupon line, dei sistemi per prenotare le analisi del sangue, ma soprattutto dobbiamo anche garantire la transizione e l'utilizzo corretto dei fondi del PNRR. Quindi in questo ci sarà il nostro impegno a garantire tutto il raggiungimento delle milestone nazionali ed europei. In particolare con il centro chirurgico toscano, in questa occasione, presentiamo la prima struttura privata che alimenta il fascicolo sanitario elettronico regionale. Quindi cosa vuol dire? Che i cittadini che si rivolgono a questa struttura troveranno tutta la loro vita, diciamo, clinica rappresentata nei documenti digitali trasmessi nel fascicolo. E' la prima realizzazione, è un obbligo per i privati nel progetto nazionale, ma diventerà poi obbligatorio per tutte le strutture che operano in regione. Si concluderà domani la missione di Sei Toscana nei territori colpiti dalle alluvioni in Emilia Romagna. Sei Toscana ha infatti inviato un totale di 11 mezzi e 23 uomini a supporto delle attività emergenziali predisposte dall'azienda di Jane Urbana che operano nelle zone alluvionate. Le prime attività si sono concentrate a Forlì e poi invece nella bassa Romagna a supporto delle attività emergenziali coordinate da ERA. Oltre agli interventi diretti nelle zone alluvionate, Sei Toscana ha anche aderito all'accordo di solidarietà promosso da CompServizi, CISPEL Toscana, CGL e CISLEWIL per promuovere all'interno dell'azienda una raccolta di contributi volontari da parte dei lavoratori così da partecipare anche a livello economico alle iniziative per la messa in sicurezza dei territori, la difficile fase di ricostruzione. E un aiuto all'Emilia Romagna arriva anche dall'Arezzo Celtic Festival. La manifestazione che tornerà dal 28 al 30 luglio al Parco Pertini è stata lanciata un'iniziativa solidale a favore delle persone e delle comunità recentemente colpite da alluvioni e frane. Gli organizzatori hanno infatti deciso all'unità di prevedere una formula agevolata per sostenere la presenza all'interno del mercatino degli stand di produttori ed artigiani delle zone colpite dall'emergenza. E adesso la pagina dedicata alla giostra del Zaracino manca sempre meno infatti alla 143esima edizione in programma sabato 17 giugno. Ieri sera la simulazione di gara, la novità di quest'anno nella quale a prevalere è stato il quartiere di Porta del Foro. Stasera invece è il turno della prova generale dedicata ad Eros Ricciarini, storico tamburino e vicepresidente del gruppo dei musici. In scena come sempre i giostratori di riserva che si contenderanno la prova generale. Aprirà la piazza, Porta del Foro, poi Santo Spirito, Sant'Andrea e per ultimo nello scontro con il laborato il quartiere di Porta Crucifera. Domani sera invece in programma le cene propiziatorie che porteranno a tavola circa 4.000 commensali. Passiamo adesso alla pagina dello sport. Per tutti i tifosi a Maranto con il ritorno in Lega Pro torna anche la possibilità di sottoscrivere la tessera tifoso cuore a Maranto. La carda permetterà a tutti i possessori di acquistare biglietti per legare in trasferta oggetto di possibili limitazioni da parte dell'Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive e delle autorità competenti. La tessera permetterà poi di poter beneficiare di sconti e promozioni legate alle iniziative presso lo store della società sportiva Arezzo. E adesso la scherma, quella a Retina infatti ha festeggiato la promozione in Serie A. Il circolo schermistico a Retino festeggia la Serie A. Sono risultati nella scherma importanti perché come si sa la scherma in Italia è una disciplina di livello internazionale quindi già in Italia riuscire a fare questi risultati per noi è gratificante. A Piacenza il campionato italiano di Fioretto maschile Serie B1 la squadra composta da Eric Peruzzi, Jacopo Peruzzi, Tommaso Francese e Leonardo Pagetti sono scesi in pedane ed hanno trionfato riportando la scherma a Retina in A2. Una gara molto intensa, molto combattuta fin dalle prime stoccate nel girone concluso con tutte e due vittorie. Siamo partiti molto determinati e concentrati e poi piano piano, visto che siamo andati avanti sempre più convinti il risultato stava pian piano avvicinandosi siamo riusciti a ottenere questo risultato, un ottimo risultato. Siamo stati bravi, devo dire la verità siamo stati molto compatti la squadra, anche i ragazzi più giovani sono sempre stati sul pezzo e a un certo punto abbiamo voluto la vittoria perché ci siamo tutti concentrati e abbiamo veramente dato tutto con piccoli infortuni durante la gara però veramente non abbiamo mollato. Dunque un'altra promozione per lo sport a Retino. Un raguardo molto molto importante per uno sport nobile come la scherma per una società importante della nostra città antica, consolidata che negli anni ha saputo lavorare bene non solo dal punto di vista sportivo perché ricordo che gestisce un impianto sportivo comunale quindi il nostro impianto di scherma lo fa bene, ha superato gli anni della pandemia ha superato il caro Bollette anche grazie a un piccolo contributo che siamo riusciti a dare come amministrazione comunale poi vediamo i risultati. Questo è un circolo che tradizionalmente esprime livelli tecnici di grande spessore la storia di questo circolo è fatta di vittorie e di grandi protagonisti quindi nella continuità di quello che è stato fatto nel corso degli anni questa dirigenza sta continuando a tirar fuori i talenti per lo sport e per la scherma Retino. Il tennis giotto invece ha i play-off per la serie A2 un traguardo che è stato raggiunto dalla prima squadra femminile che nella stagione dell'esordio assoluto in B1 è riuscita nell'impresa a rifesteggiare l'accesso agli spareggi per la promozione con il turno d'anticipo rispetto alla conclusione del campionato. Quattro successi nelle prime quattro partite con 13 incontri vinti e solo tre persi hanno permesso di blindare il secondo posto in classifica che permetterà di mantenere in vita fino all'ultimo il sogno della salita il A2. Questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci a tutti Autore dei sovrapposti